Noi siamo in Toscana, abbiamo nel nostro portafoglio tre aziende di tre denominazioni diverse. Partiamo dal Chianti Classico con Dievole, un'azienda storica dal 1090. Poi andiamo a Montalcino con Poderebrizio nella parte sud, una piccola azienda di 11 ettari. Per poi finire nella nuova denominazione, o la più nuova, quella che è considerata la più emergente, che è Bolgheri, contenuta a meraviglie. Quindi una rappresentazione del territorio a 360 gradi sulle tre denominazioni che sono considerate le più importanti al momento. In tutte le aziende siamo già certificati organico o nel processo di essere certificati. Montalcino è il Chianti Classico, già dall'annata 2017 abbiamo la certificazione. A Dievole è dalla prossima vendemmia, quindi dal 2019. Grazie. Grazie. Grazie.